saluti ciao ho sempre detto che la tua testa ha qualcosa che non va attaccanti in arrivo tra 30 secondi questa è la città che fa per 3 luci, motore, azione grazie credete di riuscire a starmi dietro? non ancora 5 3 2 1 attaccanti in arrivo difendete l'obiettivo A provate a passare ora ma senza difensiva attivata non c'è non c'è non c'è non c'è ma non c'è 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.